Prevenzione, accesso alle cure per tutti, riduzione delle liste d'attesa, visite con la diagnostica per immagini. La società oftalmologica italiana taglia il traguardo dei 20 anni al suo congresso internazionale, al Via Roma, la presenza di centinaia di oculisti da tutto il mondo, per fare il punto della situazione dell'oculistica nel paese, tra innovazioni e obiettivi per il futuro. La visita oculistica oggi è un evento fondamentale perché fa prevenzione, diagnosi, prescrizione, cura, risolve i problemi, quindi con un unico accesso che deve essere contestuale con la possibilità di effettuare gli esami necessari, la diagnostica per immagini. I risultati che stiamo ottenendo a livello di salvaguardia della vista sono straordinari. Ricordo che ogni anno i 7.000 medici oculisti salvano la vista a 2 milioni di persone, ma nonostante questo, nonostante tutto il nostro impegno, che forse ha bisogno di maggior organizzazione, maggior numero di oculisti impegnati nel sistema sanitario nazionale, abbiamo comunque una spada di Damocle sulla testa perché da qui al 2030 è possibile che il numero delle persone con gravi problemi visivi sia destinato a raddoppiare. Insistere sull'informazione per incoraggiare i pazienti a prendersi cura della propria vista. Dobbiamo avere una conoscenza di protezione rutinaria, normale, automatica della nostra vista e dei nostri occhi. Non dobbiamo considerare la vista come una cosa automatica, un dono del Signore che sarà assolutamente assicurato per tutta la nostra vita. Dobbiamo incominciare personalmente a prenderci la responsabilità di poter continuare a vedere fino a 100 anni.